Dopo il successo dello scorso anno, torna il presepe vivente itinerante a Sulmona, presentato oggi un altro degli eventi club del Natale sulmonese. Fervono i preparativi per una manifestazione che unisce fede, teatro e turismo. Saranno 250 figuranti che daranno vita alla rappresentazione della Natività di Cristo, con un percorso che partirà da Porta Napoli e si concluderà nel piazzale del Duomo sulmonese. Per poter assistere alla rappresentazione, il pubblico itinerante potrà prenotarsi sotto l'arco di Porta Napoli. Qui partiranno i gruppi da 20 persone, guidati dai volontari delle associazioni organizzatrici. Tutto comincerà alle 17. 8 le postazioni, 2 in più rispetto allo scorso anno. L'annunciazione nella piazzetta di Celestino V, la visita di Maria Elisabetta in piazza Don Minzoni, erode nella rotonda di San Francesco, il censimento in piazza 20 Settembre, la locanda e il mercato nel palazzo dell'Annunziata, l'apparizione dell'Angelo ai Pastori in piazza Carlo Tresca, l'incontro dei pastori con l'Angelo alla Villa Comunale e la natività nella cattedrale di San Panfilo. Questa natività che si fa sul Mono è particolare rispetto a tutte le altre manifestazioni che si svolgono nei vari paesi. Intanto perché noi prendiamo tutta la città completamente e fare un presepe in una città, in un corso, in una piazza, cioè non è come farlo magari in un paesino dove già naturalmente c'è quasi una scenografia apposita. Abbiamo voluto a tutti i costi ripetere questa manifestazione, spiega il vice sindaco, assessore della cultura del comune di Sulmona Luciano Marinucci. Noi ringraziamo l'associazione Giostra Cavalleresca con i borghi sesteri e l'associazione culturale Arianna che animeranno questo momento importante. Innanzitutto viene effettuato in una location eccezionale che è il centro storico della nostra città che è uno dei più belli d'Italia. Ma allo stesso tempo perché è un evento eccezionale perché richiede l'impegno di numerosissime persone, quasi 250 persone. Il presepe itinerante viene fatto come l'anno scorso, quindi con il raggruppamento presso Porta Napoli dove verranno formati dei gruppi che verranno presi da apposite persone messe da nostra disposizione e che accompagneranno questi gruppi all'interno delle singole scene. All'interno delle singole scene ci sono dei posti riservati al gruppo, quindi il gruppo che arriva ha lo spazio dedicato per vedere la scena come nella sua totalità e poi viene preso e portato nella seconda scena. Tutto pronto dunque per questa seconda edizione. Sveliamo intanto i nomi dei personaggi che interpreteranno la Natività di Cristo nel ruolo della Madonna Anna di Pasquale, San Giuseppe Emilio di Pasquale, nel ruolo del bambinello Aldo D'Amico, l'ultimo nato di Vaviletta Barrelli, di soli quattro mesi. Ma il messaggio del presepe è quello di pace, salute e bontà, perché è più cattivo e sarà proprio un bambino a diffonderlo nell'ultima scena. Nel ruolo di San Francesco invece Don Gilberto Squategui.